Presidente, questo è un momento sicuramente duro per la società. Innanzitutto io le chiedo quando avete saputo e che cosa intendete fare. Lei ci diceva di una convocazione dell'Assemblea dei Soci. Io l'ho saputo questa mattina quando mi sono alzato e su Sky è uscito questo trafiletto che poi è stato approfondito fino al punto che addirittura è uscito il nome dell'Aquila Calcio. Dopodiché, insomma, tramite altre persone abbiamo saputo di Ercole e di Nicola. E' stato un fulmine al Celsereno, nessuno di noi poteva pensare a tanto. Io ripeto, Ercole è una persona che noi abbiamo sempre stimato, una persona che ci è stata vicino, una persona che ha dato all'Aquila pure una certa importanza, ha fatto delle formazioni tali da poter vincere il campionato, i play-off di due anni fa. L'anno scorso abbiamo fatto i play-off per andare in Serie B. Quindi io penso che lui nel suo abbia fatto quello che gli competeva. Che poi non sia stato, magari sotto tanti aspetti, così cristallino, questo nessuno di noi può dirlo perché a noi non ha dato mai un segnale del genere, nemmeno ha dato modo di farci capire che qualcosa non andasse verso giusto. Quindi io confido nella giustizia e spero che tutto questo si risolva a breve. Come società non avete avuto, Presidente, perquisizioni e quant'altro nella vostra sede? Nella maniera più assoluta. Io ho ricevuto 300 telefonate stamattina perché gente, addirittura con il terrore che io magari fossi indagato, oppure io non ho avuto nessuna segnalazione, non ho avuto nessun organo di Stato. Quindi siamo chiaramente sconvolti da questo che sta accadendo, però nello stesso tempo sereni di una certa tranquillità e con apprezzione chiaramente per quello che sta accadendo. Però insomma noi siamo una società vera che nell'Aquila Calcio ha creduto. Io l'ho sempre detto, facciamo i costruttori, l'Aquila ci sta dando e noi dobbiamo restituirlo in qualche maniera. Abbiamo pensato che il calcio non è come elemento di trasporto perché non è così. Ai tifosi cosa vi sentite di dire, Presidente? Perché è chiaro che c'è un'indagine in corso, quindi c'è poco da dire in questo momento, però sono comunque macchie perché c'è un'inchiesta grande, ancora calcio scommesse, purtroppo un fenomeno che si ripete, diciamo così. Sì, senza dubbio, loro devono stare tranquilli, noi tutto l'impegno che abbiamo finora messo nell'Aquila Calcio forse a maggior ragione ne metteremo ancora di più e cerchiamo di risollevare questo nome che sta scendendo veramente in una caduta che andrà a finire sicuramente male perché purtroppo quando si parla sotto un lato negativo di qualsiasi cosa non è piacevole. Noi lo vediamo ogni giorno e rischiamo sempre che qualcosa accada all'Aquila e quindi pure questo è un elemento bruttissimo. Adesso noi dobbiamo essere sereni, forti e adesso oggi l'Assemblea si riunisce, dei soci, faremo sicuramente un progetto alternativo, faremo subito un intervento sano e rideremo fiducia ai nostri tifosi e alla nostra città. Vicepresidente, quando avete appreso voi dell'arresto del vostro direttore sportivo, Arcole Di Nicola? Questa mattina dagli organi di stampa, è stata una tecola che ci ha caduto in testa e all'improvviso non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. In questo momento come si configura la posizione della società? Perché è vero che in questo momento è il direttore sportivo ad essere indagato, però lei capisce che ci saranno indagini, ci sono indagini, quindi in questo momento il ruolo della società da cui la calcio? Io posso dire che il direttore sportivo è stato, ed è, è stato artefice di tanti successi e per me come tecnico è una persona che ha sempre dimostrato una grande valenza. Per quanto riguarda altre cose, non sono certo io a dover fare indagini o cose che sono al di sopra della mia capacità, anche intuitiva, insomma. Queste cose non rientrano nella mia mentalità, quindi non riescono, non rientrano mai con il sospetto neanche che rientra nella mia mentalità. Sono convinto che riuscirà a dimostrare, perché io ho molta fiducia in lui, gli hanno dato tanta e sul campo ha dimostrato di essere valido. Ecco, fermo restando che c'è un'indagine, non possiamo ovviamente dire di più, non si fanno i processi mediatici, ma è una macchia però sull'ambiente, anche per il rapporto che ha questa società con la tifoseria e vicepresidente? Io voglio tranquillizzare la tifoseria, l'Aquila Calcio non è stata toccata assolutamente da questa indagine, non c'è stata nessuna perquisizione, non c'è niente di niente. Quindi è una cosa che riguarda il tecnico e che probabilmente, anzi sicuramente, per quanto lo conosco, io sono convinto che riuscirà a dimostrare la sua estranetà. Volendo fare anche una riflessione a più ampio raggio, calcio scommesso è l'ennesima inchiesta, 50 indagati, certo, a vedere questo il calcio italiano non fa una gran bella figura. No, guardi, l'idea di essere sfiorato anche in questo modo mi mortifica tantissimo. E noi, se avessi saputo, forse non sarei neanche entrato nel calcio, se avessi potuto immaginare di trovarmi un giorno a discutere e a parlare di questo. Ci siamo, quello che voglio dire ai tifosi è che continueremo, niente è cambiato, abbiamo dei regolamenti interni per cui si prenderanno provvedimenti secondo il regolamento interno, finché non si farà chiarezza su questo fatto. Quindi la società va avanti, ci sarà, magari si prenderanno le decisioni che sono già stabilite, cioè sono già nel nostro statuto. Quindi il direttore sarà sospeso e mi auguro di rivederlo presto tra noi. Ma l'Aquila Calcio deve andare avanti, è una società, non è che si ferma per questa questione, sebbene grave e sebbene sia una cosa che ci ha mortificato. Grazie.